Entro giugno dovrebbe essere consegnato lo stadio di Acquasanta. All'interno si stanno già realizzando delle opere. Sono arrivati i famosi seggiolini che nei prossimi giorni saranno montati. Resta il problema delle telecamere, ma l'assessore Capri assicura che si farà in tempo a consegnare lo stadio prima dell'iscrizione dell'Aquila Calcio al prossimo campionato. Questa infatti è la condizione indispensabile. I giorni metteremo i seggiolini che finalmente sono arrivati. Inizieranno dalla prossima settimana. Da lunedì si iniziano a mettere i seggiolini. Stiamo già lavorando all'interno. Abbiamo iniziato a fare qualche opera di sistemazione. Abbiamo predisposto gli arredi. Stiamo solo che stanno predisponendo gli arredi. Stiamo facendo tutto quello che sostanzialmente possiamo fare noi come Comune. Abbiamo predisposto una perizia, una perizia di variante per fare una serie di opere di completamento. Il problema principale sono le telecamere. Nel senso a questo punto diciamo che manca solo materialmente l'inizio e la fine dei lavori sulle telecamere che dovrebbe iniziare nei prossimi giorni. Tempo 30 giorni, metà maggio, dovrebbe essere concluso. Uno dei nodi da sciogliere sarà anche quello del campo di allenamento adiacente ad Acquasanta. La Questura vorrebbe farne, a quanto pare, un parcheggio, ma il Comune preme affinché resti un campo a servizio della squadra. Quindi stiamo anche valutando l'ipotesi di spostare il parcheggio altrove e utilizzare quel campo soltanto per gli allenamenti o comunque risistemarlo a servizio della società. E poi c'è l'intera area di Acquasanta da riqualificare. I residenti infatti protestano per la strada sterrata e piena di buche, per la mancanza di illuminazione nella zona. Provvederemo anche a questo, assicura l'assessore Capri. Noi dobbiamo garantire dei format, dei target di sicurezza, che sono sicuramente quando ci saranno le partite dell'Avola Calcio. Ma in ogni caso, intorno a una struttura così importante e così sensibile, è ovvio che almeno la fruibilità, quindi le luci, l'asfalto, la sistemazione, va fatta.